E' un'esplosione, un'esplosione! Circa 800 persone appartenenti a gruppi di estrema destra provenienti da Austria, Francia, Repubblica Ceca e Germania hanno manifestato a Vienna brandendo uno striscione recante alla scritta Difendere l'Europa e scandendo slogan razzisti contro gli immigrati. In gente il numero di forze dell'ordine impiegate costrette ad utilizzare spray urticante nel momento in cui attivisti di sinistra hanno cercato di fermare la marcia degli estremisti attraverso la città austriaca scagliando pietre all'indirizzo di questi ultimi. Svariati arresti sono stati eseguiti dalla polizia a coronamento degli scontri che hanno causato 13 feriti.